L'ultimo round del moto mondiale si è corso a Moteghi nell'alba italiana, si è segnato già un titolo per quanto riguarda le categorie del mondiale dei prototipi su due ruote e ovviamente ci riferiamo alla moto 3 dove Davide Alonso si è laureato campione del mondo con quattro gare ancora da giocare. Per quanto riguarda la MotoGP invece abbiamo una vittoria molto importante di Francesco Bagnaia che riduce il gap da Martina a 10 punti, in Moto2 invece una gara pazza consegna la prima vittoria della carriera a Manu Gonzalez, questi sono i punti di cui tratteremo in questo Racing Podcast in versione mattutina perché comunque siccome la gara è stata corsa alla mattina l'episodio esce alle ore 13 e appunto per una volta non partiamo dalla categoria regina ma dalla classe entrante perché appunto abbiamo l'onore di celebrare un pilota dominatore di questa stagione ovvero il colombiano Davide Alonso che corre su CF Moto, moto cinese che in realtà fa parte del gruppo KTM però appunto è un mondiale dominato come non se ne vedevano dai tempi di Juan Mir, Danny Kent e piloti che avevano veramente imposto la loro legge senza se e senza ma e sempre senza se e senza ma Davide Alonso è stato il pilota più meritevole di questo titolo del mondo vincendo anche peraltro la gara che gli ha consacrato il primo titolo a livello mondiale della carriera, è il primo colombiano in tutta la storia del moto mondiale a vincere un titolo di ridato, lo ha fatto vincendo una gara molto interessante a Moteghi decima vittoria in stagione per Davide Alonso su 16 gare disputate finora, veramente un autentico martello, Alonso nella gara di Moteghi ha fatto veramente quello che voleva dopo essere stato intruppato un po' nel gruppo nella prima fase di gara Alla fine il colombiano di Medellin è uscito alla distanza, ha impresso dei giri che gli altri non potevano raggiungere nei giri clou, Alonso girava sotto di fatto il 56 con tutti gli altri sopra questo riferimento e alla fine per la decima volta in stagione suona gloria immarsessibile per Davide Alonso che appunto con ancora 4 round da correre ottiene 321 punti che sono quelli che servono per aggiudicarsi il titolo mondiale per un pilota che l'anno prossimo andrà in Moto2 non c'è mai stato dubbio evidentemente su questo titolo del mondo, ripeto, è stato già un titolo del mondo dominato, vedi per esempio quello di Acosta in tempi recenti, altro pilota che sta facendo molto bene nelle classi superiori, però comunque in generale Alonso ha ottenuto la terza vittoria consecutiva a partire dal Gran Premio di Misano 2 e quindi veramente qualcosa di allucinante non l'hanno potuto i diretti avversari che sono stati Olgado, Weyer e Ivan Ortolà, Ivan Ortolà in realtà è quello che a Moteghi raccoglie lo zero Weyer invece il pilota olandese fa secondo su Usquarna, altra moto del gruppo KTM e invece arriva una buona conferma per Adrian Fernandez che è il fratello di Raul quello che corre in MotoGP, secondo podio di fila dopo quello dell'Indonesia per il pilota spagnolo del team Leopard per un mondiale Moto3 che di fatto sarà platonico da qua fino a Valencia sarà comunque una grandissima lotta tra i piloti che hanno occupato le prime 5-6 posizioni in tutto l'arco del campionato gli italiani in questo mondiale hanno fatto tanta fatica, il migliore in questo momento è Luca Lunetta dodicesimo per il resto parliamo di classifica generale ovviamente con Matteo Bertelle diciassettesimo, Filippo Farioli diciottesimo Riccardo Rossi diciannovesimo, Nicola Carraro ventesimo e in mezzo Stefano Nepa quattordicesimo nell'ultima gara di Motegui sono arrivati appunto semplicemente tutti quelli che ho elencato tranne appunto Lunetta che è caduto ma appunto gli italiani in questo mondiale di Moto3 fanno meramente da comparsa discorso diverso invece vale per la MotoGP dove in realtà i pochi italiani sono da prime posizioni con costanza a cominciare da Francesco Bagnaia però appunto Bagnaia riesce a vincere ancora una volta una gara contro Orge Martin in una gara va detto quella della classe regina parecchio noiosa, si sa oramai che a parte il quinquadrato a costa che a Motegui è caduto se la giocano di fatto le Ducati e sono sempre le solite quattro due italiane appunto con Bastianini e Bagnaia e due piloti spagnoli con Marc Marquez e Orge Martin e anche oggi a Motegui i primi quattro sono quelli elencati già da qualche gara a questa parte per la gara del Moto Mondiale appunto l'unico highlight degno di nota è stato il crash di Acosta a 21 giri dalla fine quindi di fatto nelle prime battute di gara l'ultima curva Acosta provava a tirare come un forsennato per provare a prendere Francesco Bagnaia che era partito comunque dalla seconda posizione e però alla fine Acosta appunto forzando troppo cade all'ultima curva riparte ultimo finirà doppiato in una gara di Moto Mondiale che vedrà 17 piloti arrivare al traguardo però appunto per il resto parliamo oramai di quattro piloti che si giocano per tutte le gare la Ducati oramai ha già vinto il titolo costruttori per quanto platonico e appunto bisognerà vedere semplicemente come si risolverà la disputa tra Orge Martin e Francesco Bagnaia in questo caso va a vincere Francesco Bagnaia l'ottava gara nella singola stagione e di fatto è il più alto score in carriera in un podio che appunto è completato da Orge Martin e Marc Marquez peraltro entrambi di rimonta Orge Martin partiva undicesimo e arriva secondo Marc Marquez partiva nono e arriva terzo Martin comunque sfrutta una moto in salute e uno stato mentale in questo momento molto più interessante rispetto magari all'anno scorso dove in questo punto della stagione va già buttato via delle gare per esempio Indonesia appunto lo scorso anno alla fine però appunto il pilota spagnolo va a limitare i danni perde solo 5 punti e come vediamo dalla classifica generale del campionato il distacco tra lo spagnolo del team Pramac e il pilota italiano del team ufficiale Ducati è soltanto di 10 punti 392 per Martin 382 per Bagnaia Marc Marquez finisce terzo in questa gara di Moteghi e va a 311 davanti a Enea Bastianini quarto in gara a Moteghi e terzo in classifica generale appunto sono delle gare quelle del moto mondiale per quanto riguarda il campionato costruttori decisamente inutili e noiose perché le Ducati anche qui come vedremo nella top 10 di Moteghi vanno a occupare sostanzialmente tutte le prime 10 posizioni in questo caso fa eccezione Alex Marquez che appunto è caduto esattamente come ha costo nelle prime fasi di gara ma per il resto è il solito moto mondiale ovvero Ducati che la fa da padrone si può inserire in qualche modo KTM aprì gli a Moteghi quest'anno dispersa per il resto tolte le europee tutte le altre moto arrivate al traguardo punti compresi sono le giapponesi la migliore in questo caso è stata una Yamaha quella di ovviamente Fabio Quartarò o meglio in realtà la Honda di Johan Zarco Honda però cliente del team di Lucio Cecchinello per una top 10 di Moteghi che appunto è molto similare a quelle altre gare che abbiamo commentato in questa stagione del moto mondiale appunto a cominciare da Enea Bastianini in quarta posizione quinto abbiamo invece Franco Morbidelli e dobbiamo fare una menzione per il pilota italo-brasiliano Morbidelli ha avuto un adattamento abbastanza complicato nelle prime gare della stagione a questo punto però abbiamo visto lo scatto di Morbidelli che lo ha portato ad avere un ottavo posto a Misano 2 delle top 10 con Costanza una quinta posizione a Moteghi in questo caso di forza una grande prestazione per Franco Morbidelli che pound for pound fa una delle migliori gare della stagione da quando è arrivato in MotoGP sesto è Brett Binder con una KTM che di fatto tolta Ducati è la seconda forza di questo mondiale noi dovremmo contare anche tra le KTM anche Pedro Acosta che però formalmente corre su Gas Gas però appunto tolto Acosta che era al momento della caduta in seconda posizione per il resto abbiamo avuto un discreto Binder che ha dato molto filo da torcere a Bastialini nel tentare la rimonta alla fine il sudafricano si accontenta della sesta posizione settimo e ottavo invece sono le due Ducati del team VR46 in settima posizione abbiamo Marco Bezzecchi che comunque completa un'altra solida gara ottavo invece Fabio Di Gian Antonio per appunto completare il tripudio Ducati nelle prime dieci posizioni sono otto in totale divise per quattro squadre Alex Marquez è caduto sette sono arrivate in top 10 segno che Ducati ha raccolto in questa stagione il grande lavoro fatto nel corso degli anni certo però dal punto di vista dello spettacolo va detto pur tifando la Ducati che è un po' monotono perché appunto uno va a vedere le gare di modo GP e sa perfettamente che vincerà una Ducati verosimilmente una tra Martín, Bagnaia, Barzenini e Marquez e tutte le altre case sono o disperse o fanno quello che possono l'unica eccezione alle vittorie di Ducati è stata quella di Maverick Vignales nella terza gara della stagione per il resto appunto tra Bagnaia e Martín soprattutto un monopolio che da Ducati di vista fa bene ma per lo spettacolo della MotoGP assolutamente no per quanto riguarda invece le altre posizioni appunto completiamo la top 10 con l'apriglia di Aleix Spargarò che fa una gara onesta partiva in realtà nelle retrovie era sostanzialmente in posizione da Q1 alla fine Spargarò riesce a rimontare fino alla nuova posizione Maverick Vignales invece si stende e non raccoglie di fatto dei punti la top 10 la va invece a completare Jack Miller con la seconda KTM ufficiale del team appunto di Red Bull KTM Ayo per dare un'idea di quello che è la gerarchia di queste KTM peraltro notizia recente che Jack Miller tornerà in Pramac Racing la squadra che lo ha lanciato ma appunto sappiamo che l'anno prossimo Pramac passerà a Yamaha e invece lasciando Ducati che perderà di fatto una squadra tutte le altre posizioni le vediamo la top 10 alla fine è completata dal Raul Fernandez che appunto va su Aprilia Trackhouse Racing ci sono punti per Luca Marini una delle poche gioie per Marini in questa stagione hanno detto che la Honda insieme alla Yamaha è la peggiore moto dell'otto la Honda ufficiale si sta lentamente sviluppando questa stagione è di transizione Marini fa quello che può in una gara che però comunque con tante cadute davanti non l'avrebbe visto in zona punti ma comunque dobbiamo citarlo in quanto italiano arrivato in zona punti per un campionato modo GP che al netto del monopolio Ducati che appunto può piacere anziché no ha quattro round dalla fine ha una lotta molto interessante verosimilmente è un duello tra Bagnaia e Martin che spero si portarga fino a Valencia siccome tra sprint e gare ufficiali effettivamente loro se la battono sempre si tolgono punti a vicenda una volta vince Bagnaia una volta vince Martin c'è tanto equilibrio quindi è fondamentale vedere gli episodi singoli a dove porteranno e come reggeranno di testa in queste ultime quattro gare entrambi i contender attenzione a Vastellini e Mark Marquez che appunto hanno monopolizzato le prime quattro posizioni nelle ultime gare sono piloti molto validi sono piloti che possono evidentemente fare bene in determinate condizioni e potrebbero essere evidentemente gli arbitri di questo campionato matematicamente sono ancora in lotta ma ovviamente dobbiamo concentrarci sui primi due classificati però appunto attenzione anche a queste prestazioni le altre scuderie e gli altri piloti sono veramente un passo indietro e quindi verosimilmente occhio ai primi quattro della classifica da qui a Valencia speriamo l'ultima gara che dovrebbe assegnare il titolo del mondo 2024 MotoGP che si correrà a metà novembre MotoGP, Moto2 e Moto3 invece correranno tra due settimane in Australia a Phillip Island in un weekend che vede la triplice contemporaneità di Formula 1 Austin, Texas e la Superbike che dovrebbe chiudere i conti ai resti della frontiera con il titolo verosimilmente a Topper Carasgatiog lo chiudiamo però invece con la gara decisamente più interessante delle tre e non è la MotoGP nonostante appunto i tipi da Ducati ma è la Moto2 una Moto2 che ha subito una bandiera rossa diciamo per un diluvio nelle prime fasi della prima ripartenza molti piloti alla fine mettono le gomme da bagnato la pista però si asciuga abbastanza la svelta e il podio è fatto da piloti che esclusivamente hanno avuto le gomme slick in realtà per essere corretti i primi sei piloti classificati di questa gara di Moteghi sono evidentemente con le slick e partendo dal sesto posto citiamo il rookie Xavier Artigas pilota che l'anno scorso era in Moto3 adesso è in Moto2 nella scuderia peggiore di tutte cioè il Forward Racing Team una moto nettamente inferiore rispetto a Kalex e a Bosco Scuro però appunto con una grande strategia un grande azzardo Artigas ottiene i primi punti in carriera di Moto2 e di conseguenza anche il migliore risultato della carriera ed è fondamentale per l'ultima scuderia dell'otto della classe di mezzo in quinta posizione invece abbiamo l'olandese Zonta van de Gorberg che ha attentato quasi al podio poi purtroppo però il passo non era Stugran che ha avuto la peggio rispetto ai suoi diretti avversari a cominciare da Jeremy Alcoba pilota del Yamaha Master Camp Racing Team pilota che a oggi non ha ancora un sedile per l'anno prossimo vedremo se andrà nella classe di mezzo della Superbike ovvero la Super Sport verrà confermato in Moto2 il podio invece è fatto dal pilota della Repubblica Ceca Filip Salac il secondo pilota del team Mark VDS Racing Team un grande Salac che in realtà ha la meglio di Alcoba che formalmente gli era davanti poi un gran bel sorpasso permette al pilota della Repubblica Ceca di centrare il terzo podio della carriera peraltro in tre condizioni completamente diverse ovvero miste come qui a Motegi bagnato e completamente asciutto in seconda posizione invece abbiamo Ayogura che di fatto è l'unico pilota di testa che riesce ad approfittare del macello della bandiera rossa alla fine Ayogura era in testa ma si fa raggiungere da Manuel González e per il pilota spagnolo del team Gresini è la prima vittoria della carriera suona per lui dunque la marcia reale per appunto il pilota che ha vinto cinque anni fa il titolo mondiale della Supersport 300 ha fatto delle buone gare in Supersport 600 all'epoca è passato in Moto2 e qui non solo ha fatto qualche podio quest'anno ma è arrivata anche la prima vittoria con un gran bel passo ad averla meglio del pilota giapponese che ci teneva peraltro a vincere la gara di casa González è sesto assoluto in classifica mondiale in Moto2 e UGura allunga sui suoi diretti avversari perché appunto sia Alonso Lopez sia Sergio Garcia sbagliano e vanno con la Reign Alonso Lopez finisce nono Sergio Garcia finisce quattordicesimo after the music gli altri due principali contender del mondiale ovvero Aaron Canet e Joe Roberts e appunto doppio zero per i due piloti anche loro con la Reign sedicesimo Canet ventisettesimo invece l'americano il miglior pilota italiano dei tre che competono in questa Moto2 a Mottega è stato Celestino Vietti il primo di fatto degli altri con la gomma Reign in un podio diciamo atipico calcolando che appunto la gara della Reign si è svolta dalla settima posizione in giù una Moto2 che evidentemente ha come la Moto3 un vero e proprio padrone che in questo caso è Ayogura Ayogura però non va a dominare i mondiali come Davide Alonso bensì è un pilota costante esattamente come in tutto l'arco della carriera vedremo se già tra due settimane a Filippa Island ci sarà il match point definitivo per quanto riguarda il pilota giapponese prossimo in MotoGP con Trackhouse Racing MotoGP che invece appunto torna esattamente in questa categoria in Australia con un mondiale molto ma molto combattuto si correrà il weekend 19-20 ottobre a Filippa Island pista che sulla carta è favorevole a Bagnaia in generale tutta la Ducati quindi io mi aspetto ancora una volta un monopolio della casa di Borgo Panigale e vedremo se avranno meglio invece Martin o Bagnaia o se ci sarà diciamo l'intervento degli arbitri al secolo Mark Marquez e Enea Bastianini il saluto da parte di Matthew Torgard ci vediamo in un prossimo video